Sono giorni di fermento per i lavoratori assunti durante l'emergenza della pandemia. Sono arrivate dalla Regione Sicilia, infatti, le istruzioni operative per le aziende sanitarie e ospedaliere in merito al personale reclutato durante il periodo Covid. In particolare, vengono confermate per il personale sanitario e sociosanitario le indicazioni relative alla prosecuzione dei contratti, già fornite alla fine del dicembre scorso. La nota, a firma dell'assessore regionale alla salute Giovanna Volo e del dirigente generale del Dipartimento Pianificazione Strategica, Salvatore Requirez, prende spunto dalla conversione del decreto legge conosciuto come Mille Proroghe in vigore da oggi. Nel dettaglio, il Mille Proroghe prevede l'estensione fino al 31 dicembre 2024 del periodo entro il quale si possono maturare requisiti utili 18 mesi alla stabilizzazione del personale che ha prestato servizio durante la pandemia. Da qui, l'invito alle aziende sanitarie a procedere a un'accelere ricognizione finalizzata a individuare i profili esistenti nelle rispettive dotazioni organiche, ancora non ricoperti, e a verificare quanto personale reclutato durante l'emergenza Covid sia in possesso dei requisiti di legge. Indicazioni diverse, invece, per l'utilizzo del personale di unità di continuità assistenziale, già prorogato fino al 28 febbraio, il cui rapporto di lavoro viene steso di un altro mese, fino al 31 marzo prossimo, così da garantire l'offerta assistenziale territoriale.